Se tra i nomi di quei debitori, di quei grossi debitori che si sono dimostrati insolventi e cioè non hanno ripagato il loro debito alla banca, ci sono i soliti nomi. Cioè ci sono colori quali hanno il potere di influenzare le scelte dell'istituto tramite le loro amicizie, le loro relazioni. Magari sono amici della vecchia politica. Ecco, sono magari loro che non hanno restituito i soldi alla banca, che poi sono i soldi dei risparmiatori di Banca Carige. Perché, signor Ministro, noi sappiamo che se un ragazzo o una coppia si presentano in banca per chiedere un prestito, un mutuo, la banca chiede garanzie su garanzie. La banca Carige è l'ennesima banca italiana portata sull'orlo del fallimento a causa di una gestione scellerata che non è stata causata solo dall'incompetenza dei manager, ma come vedremo anche dalle commissioni con la politica. Il 2 gennaio il Consiglio direttivo della BCE ha messo la banca in amministrazione straordinaria e siamo al lavoro affinché paghi il conto chi è responsabile e non chi è vittima, ossia i risparmiatori.